Ricordati di non rivelare per alcun motivo che sei imparentato con lui, men che meno con Kazuya Mishima. Molti dei partecipanti al torneo hanno tentato in ogni modo di uccidere Kazuya. Giusto. D'accordo. Dovrò fare tutto il tragitto fino all'arena con questo idiota. Waran. Kasama. Beh, ora ci siamo tutti. Vi presento Jinkasama. Ehi. Come va? Ehi, ragazzoni. Risparmiatevi per il torneo. Ah, dovevo immaginare che ti avrei rivisto quel Kasama. Forse finalmente otterrai la tua rivincita. Aspettate. Voi due siete amici. No! No!